Buongiorno signor Aldo. Buongiorno dottore. Allora tutto bene? Benissimo dottore. E quando mi mettete allegria, siete un simpatico. E mi fa piacere anche a voi del resto. Dite una cosa signor Aldo, allora come va con la vostra sciatica? Benissimo dottore, non c'è più, vi troverai abbracciare e baciare. Dottore, da consigliato di fare l'amore con mia moglie tutti i giorni, la sciatica è scomparsa. Dottore, ma non mi aveva venuto st'idea. Sapete che sei mesi fa anche io ho avuto la sua stessa malattia, la sua stessa sci... e sapete da quando mi è passata? Quando? Da quando la sua signora è diventata mia cliente.